Buonasera a tutti, eccoci qui a ritrovarci al terzo appuntamento della terza edizione della Notte delle Scienze. Dopo aver ospitato Telmo Pievani per Giorgio Di Freddi, oggi abbiamo l'onore di ospitare il dottor Donato Boscia. Il dottor Donato Boscia è un dirigente del Centro di Ricerca Nazionale CNR ed è responsabile della sede di Bari dell'Istituto della Protezione Sostenibile delle Piante. Il dottor Boscia fa parte della Scuola del Compianto Professor Martelli, virologo di fama internazionale, accademico degli INCI. Quindi oggi abbiamo questo onore anche perché, anche orgoglio, perché Donato Boscia è un figlio della nostra terra e che comunque è conosciuto anche lui nel mondo, insomma almeno per gli addetti ai lavori. Ora il dottor Boscia si è dedicato e ha studiato, nonostante lui sia un virologo, si è in pratica imbattuto in questa terribile fitopatia che in pratica è l'emergenza a livello mondiale, quella della fitopatia che procura il dissecamento rapido degli olivi. Questa fitopatia è stata identificata nel 2013 proprio grazie al gruppo di ricerca di Donato Boscia e del Professor Martelli ed è al momento questa, come è stato descritto da Joseph Marie Bovet, la peggiore emergenza fitosanitaria mondiale. Adesso cedo la parola al dirigente Professor Martino Cazzorla. Grazie professoressa Berletta e ringrazio il Professor Boscia che è qui con noi in questo terzo appuntamento che noi abbiamo nella terza edizione della Notte delle Scienze. Quest'anno è una scienza che viene negata, negata non perché non siamo in presenza ma perché vogliamo andare nella scienza, nel conoscere la scienza, nei rapporti con la scienza, l'abbiamo fatti con il dottor Pievani, con il professor Odifreddi e continuiamo a farlo con lei in questo percorso che per noi diventa percorso di contatto in una notte delle scienze e soprattutto in un'attenzione particolare al mondo e all'area scientifica. Ci sono anche i nostri studenti che dialogheranno, che medieranno, che filtreranno le domande e che saranno anche coloro che diventeranno anche gli animatori di questo incontro. Un incontro che ritengo particolarmente importante per conoscere qualcosa che ci sta intorno. Quando parliamo di albero di ulivo e soprattutto parliamo della sua produzione, dell'olio sacro, sacri erano gli alberi di ulivo per D'Annunzio e sono sacri per noi, per il nostro mondo contadino, per la nostra realtà, per la nostra cultura, per la nostra storia. Attorno a noi abbiamo quelli che un tempo venivano chiamati i boschi di ulivo lungo la marina, soprattutto nella nostra marina tra Monopoli, Polignano, Pasano, per percorrere praticamente questi boschi di ulivo fino al Salento. Eppure io sono stato, in realtà mancavo da un annetto più o meno nel Salento e quella fascia che diventa una sorta di foresta pietrificata la vedo salire sempre di più. una fascia che diventa brutta a vedersi, brutta a sentirsi, crea una sorta di angoscia nel cuore. Io, non lo so, mi permetto un po', così forse sarò anche improprio e inopportuno nel fare un paragone, un confronto con quella che è la pandemia da Covid che stiamo vivendo. Quando parliamo di Covid parliamo di una malattia che colpisce soprattutto chi è più grande in età. In realtà oggi ha abbassato anche questo livello e sembra quasi di essere un po' come i simili alla xylella. Lì dove colpisce, lì uccide. Lì dove colpisce e trova la debolezza, lì non ha pietà per nessuno. Ed è l'approccio forse, il tentativo. Magari sarà la mia domanda, quella finale o quella magari che troverà anche nel suo incontro, se c'è anche un virus come per il Covid, il virus xylella e se c'è anche una sorta di antidoto, di vaccino, di possibilità di far sì che i nostri monumenti della terra, del territorio, della nostra storia e anche della nostra cultura ed economia possano trovare ancora lunghi secoli di vita. E parlo chiaramente degli olivi. Grazie professore per essere con noi e ringrazio tutti gli organizzatori, tutti i docenti che hanno con cura seguito, curato, coordinato anche questa terza edizione della Notte delle Scienze del polo liceale Galileo Chiuri di Monopoli. Bene, prima di cedere la parola alla nostra alunna Giulia che dedicherà una breve nota biografica, vorrei fare una piccola premessa. Noi già nella prima edizione della Notte delle Scienze abbiamo dato voce a questa problematica, al batterio xylella fastidiosa, subspecie spauca, quella che in pratica è imperversa nel nostro territorio. Abbiamo invitato il professor Savino che sicuramente il dottor Boscia conosce perché in pratica fa parte dello suo gruppo di lavoro che è stato anche l'ex preside della facoltà di agraria. Il professor Savino ci ha eruditi per quanto riguarda l'eziologia, la virulenza, la diffusione, il vettore della xylella fastidiosa perché il batterio poi alla fine è immobile. Nei vasi tracheidi, nei vasi quindi xylematici delle piante d'olivo, dove in pratica occlude il passaggio della linfa e la grezza, che poi sarebbe soprattutto l'acqua, e che quindi le fa disseccare, di questo dissecamento rapido. E quindi ha bisogno di un vettore, che sarebbe poi un insetto Philenus sputarius. Allora, la sputacchina, come diciamo, volgarmente detta, naturalmente su questo poi ci erudirà anche il dottor Boscia, anche se noi vorremmo in questa fase soprattutto un altro punto di vista, quello riguardante proprio le fake news, la dietrologia che è imperversa, amplificata dal web e dai mass media. Adesso mi viene in mente anche una testata giornalistica che ha pubblicato più articoli negazionisti nei vostri confronti. Quindi, osserveremo questo lato della questione. Anche sulla scorta ci ricolleghiamo benissimo alla prima relazione fatta da Pievani, il quale dice che la fake news ha tante, cioè germoglia, trova terreno fertile nella fragilità educativa, nell'ignoranza quindi, anche nella fragilità sociale, ma soprattutto pare che al nostro cervello piacciono le fake news, piace la tesi del complotto, ci stuzzica, e tant'è che c'è proprio uno studio delle neuroscienze su questo fattore. Però naturalmente ci sono anche interessi economici, alcune piattaforme sono pilotate da questi interessi economici, naturalmente questo genericamente parlato. Nel caso della Xylella è strano, non so se è strano, ma pare che si siano proprio incattiviti contro questo filone, contro la ricerca di questo gruppo che è incomiabile, infaticabile, di cui io come percorso formativo ho condiviso il periodo da tesista e da borsista. Quindi li conosco, conosco perfettamente la scuola di pensiero e il loro modo di fare. Allora dicevo, quindi pare che si sia canito contro questo filone di ricerca, e quindi la tesi del complotto e negazionismo va avanti, e anche ora che c'è stata questa menzione Maddox, che riconosce in questo gruppo di ricerca l'infaticabile lavoro, e anche per seguire questo obiettivo seguendo i dettami del metodo scientifico, e nonostante questo, nonostante questo riconoscimento che li ripaga in parte, il negazionismo continua ancora a imperversare. Dicevo che qui si collega ancora, mi ricollego, alle relazioni che abbiamo avuto con i due precedenti scienziati, anche alla democraticità e antidemocraticità della scienza, in quanto la scienza è sicuramente democratica nel metodo, però il risultato nel momento in cui è comprovato è oggettivo, a meno che non vengano fuori delle nuove conoscenze, magari facilitate anche dal progresso tecnologico, che ne forniscono la prova, quindi c'è l'onere della prova, quindi nessuno può asserire il contrario se non c'è la prova, la prova che va provata con i dati, dati che devono essere riproposti e verificati. Ora, naturalmente, vabbè, un po' è difficile gestire questa cosa, mi rendo conto, questo affare, anche perché anche le popoluzioni locali sono state, comunque non hanno, come dire, preso, non sono state collaborative, quando col piano Silletti nel 2015 è stato messo a punto il piano di eradicazione, perché, ma questo è comprensibile, perché come diceva il nostro Preside, c'è un legame con la nostra terra, c'è un legame con queste piante di ulivo che sono ultra secolari e che ci distinguono, tant'è che la nostra pianta di ulivi secolari, che va da Bari a Brindisi, era stata presa in considerazione anche come proposta come bene dell'UNESCO, ma questo sicuramente non potrà essere se un giorno questa pianta sarà desertificata. Ora cedo la parola a Giulia. Grazie. Allora, Donato Boscia è un fitopatologo che si è specializzato nello sviluppo di anticorpi policlonali e monoclonali applicati all'identificazione di virus delle piante. Ha coordinato numerosi progetti di ricerca e di sviluppo e ha pubblicato oltre un centinaio di articoli per review, ovvero di revisione tra pari. Come ha già detto la professoressa, è dirigente di ricerca del Consiglio Nazionale Ricerca e responsabile della sede secondaria di Bari dell'Istituto per la protezione sostenibile delle piante. Inoltre, con i colleghi ricercatori del GNR e dell'Università di Bari, ha affrontato l'Axilella fastidiosa che sappiamo essere un temutissimo batterio delle piante. Lui ha coordinato le attività di campo e di laboratorio e ha dimostrato come sia la causa della morte e delle nascrese con le piante pugliesi. Ad oggi il suo impegno vede anche l'elogio del premio John Maddox. Boscia, infatti, fu segnalato nel 2019 dalla prestigiosa Accademia degli Intiei Dopo la senatrice Elena Cattani nel 2017, è in assoluto il secondo italiano ad ottenere la menzione al premio, ovvero il prestigioso riconoscimento internazionale che viene ogni anno assegnato a ricercatori che come Bosch hanno dimostrato integrità, ma soprattutto grande coraggio nel difendere la scienza e il metodo scientifico, nonostante la gravissima campagna diffamatoria e le infondate accuse e ostilità. Bene, allora grazie Giulia, adesso possiamo cominciare, quindi la parola a te Donato, ma alla fine ci siamo dati del tuo, va bene. Va bene, grazie Maria, grazie Preside per questo invito, per la possibilità di poter contividere con voi alcune informazioni riguardanti questo batterio, questo patogeno che sta causando gravi problemi alla nostra olivicoltura. confermatemi per favore che lo schermo che sia visibile nella presentazione. Sì, sì. Sì, va bene. Quindi, prima di passare alla parte più stuzzicante a cui accennavate prima, io comunque credo che nonostante questo sia stato sviscerato in precedenza dal professor Savino, che sia doveroso fare, sia pur in maniera abbastanza rapida, rifare un attimo il punto su quello che sono i fatti, ossia su che cosa è il batterio, su qual è la sua epidemiologia, perché è la base prima di poter fare, prima di fare eventualmente altri commenti. Quindi ricordo che questo è un problema che è balzato agli onori della cronaca, delle cronache oltre sette anni fa, nell'estate, quasi otto anni fa ormai, nell'estate del 2013, quando in Puglia venne segnalata una nuova malattia delle piante che fu chiamata inizialmente come complessa del dissecamento rapido dell'olivo, chiamata complessa perché in quel momento non si aveva ancora idea di quale potesse essere la sua causa. Questa, per esempio, è una delle immagini che si osservava nel comprensor di Gallipoli, soprattutto, nella costa ionica sud-occidentale della provincia di Lecce, dove si vedeva, dove in un comprensorio che si distendeva per alcuni chilometri, si stava osservando il rapido sviluppo di questi dissecamenti sparsi che comparivano sulle chiome degli olivi negli oliveti e che, cosa molto preoccupante, spesso, in breve tempo, cominciavano ad interessare l'intero oliveto, la totalità delle piante, degli oliveti colpiti. Sin da subito emersero, tuttavia, delle indicazioni che portavano, quantomeno, ad escludere alcune cause per le quali si stava facendo qualche ipotesi. Per esempio, situazioni di questo tipo già ci portavano ad escludere la possibilità che la causa potesse trovarsi, per esempio, nella tossicità o in problemi di tossicità o di inquinamento del suolo o delle acque di irrigazione perché qualcosa di tossico per gli olivi a maggior ragione avrebbe dovuto esserlo per altre specie tipo, per esempio, gli agrumi che vediamo in questa fotografia che, invece, appaiono assolutamente integri. Come pure la comparsa in, diciamo, queste indicazioni erano ulteriormente rafforzate quando si osservavano ancora prima che in oliveti condotti con sistemi convenzionali in terreni condotti con regimi di agricoltura biologica. Dopodiché abbiamo anche capito perché quelli condotti in regimi di agricoltura biologica ovviamente la popolazione degli insetti e quindi del vettore è anche più abbondante e quindi questo porta addirittura paradossalmente a rendere più rapido lo sviluppo della patologia in quelle situazioni. Così come anche situazioni di questo tipo facevano escludere anche le ipotesi di chi ipotizzava che la causa di questi dissecamenti fosse una conseguenza, per esempio, di potature sbagliate, troppo drastiche o fatte in periodi non ottimali perché qui vediamo che a sinistra un oliveto è potato drasticamente mentre a destra un oliveto non potato per nulla ma purtroppo il destino è comune alle due situazioni. La svolta si ebbe nell'ottobre del 2013 quando a seguito di un paio di mesi di intensa ricerca di quello che poteva essere la gente, avrebbe potuto essere la gente causale grazie soprattutto ad un suggerimento dal compianto professor Martelli citato prima dalla professoressa Barletta che è un fitopatologo prima ancora che un virologo che diversi decenni prima aveva trascorso un paio di anni negli Stati Uniti, in California proprio a studiare le malattie della vite di origine le cosiddette virosi in cui però rientrava anche la malattia di Pierce che poi fu stabilita a essere causata da axidella fastidiosa e quindi a seguito di quell'esperienza il professore un giorno ci disse anche se questi problemi non mi risulta la segnalazione di questi problemi su olivo però per questo modo di diffondersi e per il tipo di sintomatologia io vi suggerirei caldamente di verificare l'eventuale presenza di axidella fastidiosa purtroppo aveva avuto ragione e nell'ottobre del 2013 nei nostri laboratori furono identificate per la prima volta sequenze di DNA di axidella fastidiosa in campioni di olivo ma anche di mandorlo e di oleandro con sintomi di risseccamento prelevati nella zona di Gallipoli era ahimè la prima la prima segnalazione di axidella fastidiosa in pieno campo fatta in Europa in assoluto e questo vuol dire anche che ci fa capire anche perché questo fosse come è tuttora un organismo da quarantena un organismo nocivo da quarantena con tutto ciò che ne consegue poi in termini di misure legislative fitte sanitarie che devono essere obbligatoriamente applicate non perché furono inventate in quel momento da qualcuno da chi che sia ma perché erano già previste nei protocolli internazionali così come sono previste in Italia ma praticamente in tutti gli altri paesi nel caso di emergenza di organismi nocivi non presenti in quel territorio axidella è un batterio un batterio gramme negativo che non produce spore a sporigeno e quindi non è in grado di diffondersi da solo per esempio con gli agenti atmosferici ma ha bisogno di come diceva la professoressa Barletta di un vettore di un qualcuno in questo caso un insetto che lo prelevi da una pianta da una pianta infetta con la nutriendosi e lo vada poi ad inoculare quindi vada ad infettare piante sane quando va a nutrirsi su piante che non hanno axilella si chiama è un batterio che cresce con difficoltà in cultura pura a differenza invece di tanti altri batteri che crescono molto facilmente e molto rapidamente e si moltiplica esclusivamente nei vasi axilematici dell'oxilema queste due caratteristiche mi spiegano perché è stato dato questo nome che può farire un po' buffo di axilella fastidiosa axilella deriva proprio dal fatto che è un batterio esclusivamente axilematico dell'oxilema ossia dei vasi conduttori della linfa grezza fastidiosa nel senso americano da termine più che italiano per il fatto di crescere con grossa difficoltà in cultura pura quindi in vitro con difficoltà e isolarsi con difficoltà e crescere lentamente è un batterio polifago ossia che come specie in generale senza entrare nel dettaglio delle diverse sottospecie dei diversi ceppi è noto per poter colonizzare un'ampissima gamma di ospiti naturali al momento in questi anni è cresciuto ulteriormente l'elenco di specie suscettibili ed oggi se ne contano ormai praticamente 600 diverse specie botaniche nelle quali almeno in uno in un paio di casi in qualche parte del mondo è stata segnalata la presenza di axilella fastidiosa ed era ed era temuto prima ancora che lo scoprissimo in Salento per essere agente causale di gravi malattie in diverse culture in particolare in Europa era temuto e quindi le attenzioni principali erano concentrate all'importazione nei controlli sulle viti motivo per cui nell'Unione Europea era ed è vietata l'importazione di viti come pure di piante di vite o di agrumi dai paesi terzi e quindi vite perché da quasi un secolo e mezzo in Nord America è nota una brutta malattia dei vigneti la malattia di Pierce o la Pierce disease che nelle condizioni favorevoli per il batterio causa proprio la morte stermina interi vigneti quindi è una malattia che uccide le vite e non ne permette la coltivazione in vaste aree degli USA per esempio nella California meridionale oppure nel Golfo del Messico è particolarmente complicata se non impossibile fare viticoltura un'altra malattia invece che si è sviluppata in Sud America in particolare in Brasile una quarantina di anni fa la clorosi variegata degli agrumi anch'essa causata da Xirella sia pur da un altro da altri genotipi diversi da un'altra sottospecie diversa e altra caratteristica importante che rende questo patogeno particolarmente temibile è il fatto che almeno ad oggi non si dispone ancora di una cura in grado di risanare una cura proprio nel senso stretto d'alternio sia in grado di risanare una pianta infetta da Xirella fastidiosa Xirella fastidiosa che come dicevo prima è per l'appunto una specie che però caratterizzata da una significativa variabilità genetica se ne distinguono almeno quattro diverse sottospecie nell'ambito di ciascuno di esse poi sono numerose un numero diciamo abbastanza significativo di genotipi diversi e quindi variabilità genetica a cui corrisponde anche una variabilità anche una variabilità biologica fatogenetica per cui che fa sì che anche se la specie la sommatoria per esempio di tutte le 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 specie le vegetali ospite della xylella di quasi 600 però fortunatamente la gamma degli ospiti di ogni singolo genotipo è fortunatamente molto più ridotta e quindi a che cosa fu trovata xylella fastidiosa ma quale xylella fastidiosa quindi anche nella caratterizzazione genetica si indirizzarono subito gli sforzi delle attività di ricerca che nel giro di tempo relativamente breve portarono alla identificazione della sottospecie di appartenenza la sottospecie e pauca ma nell'ambito della sottospecie di un genotipo particolare di un genotipo codificato come st53 che quasi in contemporanea fu segnalato fu ritrovato oltre che in Puglia anche in Costa Rica in suppianti in quel caso di caffè e di oleantro e quindi fatto questo che questa caratterizzazione e questo ritrovamento unico in Centro America peraltro su piante di caffè ha consentito anche a cui si aggiunge anche il fatto che nel corso di questi anni tutte le caratterizzazioni genetiche fatte ormai di centinaia di isolati diversi di xl prelevati in diverse parti del salento e anche su specie diverse non solo su olivo conducono sempre solo ed esclusivamente all'identificazione di xl fastidiosa sottospecie pauca genotipo st53 questo ci dà delle indicazioni abbastanza importanti per quanto riguarda la possibilità di poter ipotizzare con un grosso fondamento il fatto che tutta questa epidemia sia il risultato di una singola introduzione avvenuta nel salento introduzione ottenuta avverificarsi molto probabilmente con l'importazione di piante ornamentali probabilmente di caffè importate da Costa Rica per tutta una serie di ragioni non è soltanto diciamo un frutto di fantasia ma è la conseguenza come dicevo prima della caratteristica genetica del genotipo del fatto che Costa Rica è l'unica regione nel pianeta in cui è stato ritrovato lo stesso genotipo Costa Rica che è un importante esportatore di piante ornamentali verso l'Europa nonostante fosse considerato l'area di origine dove Xivella pare si sia originata ed evoluta e Costa Rica essere anche il paese di origine di tutta una serie di partite di piante ornamentali quasi sempre di caffè intercettate alle frontiere dell'Unione Europea come infette da Xivella fastidiosa e questo dopodiché l'analisi filogenetica di tutte le sequenze di DNA disponibili dalle banche dati hanno consentito di poter fare anche una delle prime ipotesi sulla possibile datazione ossia su quanto questo è stato introdotto un primo studio pubblicato un paio di anni fa da ricercatori americani sul numero limitato di genomi ha portato ad ipotizzare il 2008 come anno di massima probabilità con la più elevata probabilità di anno di introduzione di Xivella fastidiosa da Pauca dal Costa Rica più recentemente diciamo adesso i ricercatori stanno hanno esteso stanno estendendo questa analisi a un numero molto più rilevante di isolati batterici e con molta probabilità a breve questa ipotesi del 2008 dovrà essere retrodatata di qualche anno ma si tratta comunque tutto sommato di si tratta comunque di un'introduzione avvenuta in tempi relativamente recenti e il fatto di averla associata al dissecamento degli olivi non è di per sé la prova che sia essa l'agente causale dei dissecamenti per fare questo si è proceduto all'esecuzione di testi di patogenicità ossia ad infezioni artificiali in condizioni controllate di piante di oliva sane con colture pure dal batterio grazie alle quali si è stata riprodotta in serra la stessa tipologia di sintomi che si osservano in campo quindi soddisfacendo in questo modo i cosiddetti postulati di cocche quindi consentendo di affermare che Xiella fastidiosa pauca ST53 non solo è associata a gravi dissecamenti dell'olivo ma è la gente causale di tali dissecamenti quali specie infetta l'olivo ma non solo l'olivo ho già accennato che inizialmente fu intercettata anche in mandorlo in ciliegio scusate in mandorlo in oleandro dopodiché nel corso dei primi anni sempre grazie alle ricerche che sono state condotte in maniera abbastanza intensa in questa direzione questa l'elenco delle piante ospiti di pauca 753 presente in Puglia si è esteso in maniera abbastanza significativa chi di voi segue un po' questo argomento probabilmente saprà di 34 specie ospiti questa sera purtroppo devo aggiornare questo elenco perché questo elenco adesso in questi giorni per questo aggiornato perché si è individuata la 35esima specie suscettibile ossia il pistacchio vediamo che tra queste specie questi sono i nomi scientifici tra di essi però spiccono per esempio anche il ciliegio ed il mandorlo questi sono alcuni esempi di piante di altre specie vedete oleandro vedete acacia saligna con disseccamenti e con infezioni da axiella fastidiosa questa è la sintomatologia che si osserva sui ciliegi infetti da axiella e anche se tra le indicazioni importanti emersi in questi anni c'è emersa anche l'esistenza all'interno delle stesse specie di una significativa variabilità nella sensibilità axiella fastidiosa delle piante ospiti è il caso dell'olivo in cui per esempio a fianco a fronte delle specie prevalenti delle varietà prevalenti in salento quale ogliarola e cellina di nardò particolarmente suscettibili sono state trovate un paio di varietà leccino e fs17 con interessanti caratteri di resistenza che in certe condizioni in certe condizioni di coltivazione sembrerebbero poter consentire la convivenza con le infezioni del batterio qui vedete per esempio un esempio a destra vedete una fila di leccino sostanzialmente in condizioni sicuramente accettabili confrontate con una fila sinistra della varietà ogliarola completamente distrutta sia pur tutto questo nella stessa azienda nello stesso terreno quindi con la stessa conduzione con lo stesso metodo di coltivazione e come evolvono i sintomi abbiamo visto inizialmente questa immagine però purtroppo questa non è neanche la fase terminale della malattia perché per esempio in questo stesso posto tornando un paio di anni dopo il panorama era cambiato ovviamente purtroppo ahimè in peggio e quindi credo che immagini tipo queste non abbiano bisogno di particolari commenti chi lo trasmette in natura l'ho anticipato in maniera abbastanza chiara la professoressa Barletta e ci sono questi vettori le sputacchine ne sono state individuate fino a questo momento tre specie la principale dei quali è la la sputacchina media o filennus o spumarius di cui è stata dimostrata l'elevata efficienza e capacità di acquisire il batterio da olivo infetto di trasmetterlo ad olivo sano cosa si può fare per arginare questa epidemia il preside ha accennato a un parallelismo per esempio con il covid cioè anche in questo caso un piano di contenimento azione di contenimento qui non si tratta di mettere la mascherina o il distanziamento sociale le azioni di contenimento che possono essere messe in atto per contenere il più possibile se non bloccare completamente l'ulteriore diffusione dell'epidemia sta nella identificazione a seguito di monitoraggi ed eliminazione delle fonti di inoculo sia delle piante infette è chiaro che siamo in una in un piano di contenimento quindi è diverso dall'eradicazione si tratta di lavorare sul fronte dell'epidemia per cercare di impedire l'ulteriore avanzata dell'epidemia stessa al tempo stesso però questo deve essere combinato con la lotta al vettore quindi contenere la popolazione dei vettori molto può essere fatto in maniera sostenibile con delle lavorazioni del terreno a cui però vanno affiancate anche a cui devono essere seguiti anche un paio di trattamenti insetticidi quindi lavorazioni del terreno farsi tra marzo e aprile con un paio di trattamenti insetticidi nei mesi immediatamente a seguire e al tempo stesso impedire o controllare al massimo lo spostamento di piante potenzialmente infette in vivai presenti in zone a rischio quindi per tutta questa situazione necessitava l'adozione tempestiva di drastiche misure che purtroppo però sono delle misure impopolari e che in quanto tali si ha difficoltà ad accettare e questo sono ovviamente ogni qual volta ci sono viene descritta una situazione che richiede delle misure impopolari e diciamo direi è fisiologico che si originano e che quindi nascono delle opinioni negazioniste o peggio complottiste questo per esempio lo si vede in tutti i casi in cui si ha a che fare con un problema nuovo che come dicevo l'abbiamo visto per esempio nel caso del covid però l'abbiamo sperimentato ancora più prima e in maniera anche più 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 intensa nel caso della xylella infatti già qualche mese o se non qualche settimana dopo la prima segnalazione che fu fatta della presenza di xylella in in salento cominciarono a a sorgere e a diffondersi in rete in rete delle teorie complottiste questi sono alcuni esempi in cui per esempio venne identificata subito le multinazionali la monsanto quale probabile regista o mandante di questa di questo problema per la presunta per la presunta proprietà di piante di olivo OGM resistente o immuni da piazzare sul mercato il fatto che nelle prime ricerche fosse coinvolta un professore americano taler Rodrigo Almeida che casualmente aveva un'omonimia con un dirigente della monsanto che quindi in rete sub divene identificato Rodrigo Almeida come possibile colpevole di questa situazione ma questo che vedete qui in questa fotografia non c'entra nulla con il professor Rodrigo Almeida il fitopatologo esperto di Xirella venne veniva tirato in balla un workshop una conferenza che fu tenuta presso l'istituto agronomico era stata tenuta presso l'istituto agronomico mediterraneo nel 2010 quindi tre anni tre quattro anni prima della scoperta di questa epidemia in Salento una workshop dedicata a Xirella fastidiosa che fece sospettare che un batterio potesse essere stato introdotto colpevolmente o in maniera dolosa in Italia in quell'occasione per poi essere dolosamente diffuso sul territorio anche se chissà come facendo questo salto di oltre 200 km da Bari da Valenzano fino a Gallipoli e ovviamente tutto questo queste teorie non furono non trovarono un adeguato contrasto e quindi cominciarono a diventare sempre più popolare e sfociarono anche in manifestazioni di piazza o altro tipo di manifestazioni questa per esempio è una manifestazione con circa 7000 partecipanti che si ebbe in piazza a Santo Ronzo a Lecce la domenica delle palme del 2015 con diciamo personaggi anche dello spettacolo personaggi che avevano un ruolo facile accesso a mass media che potevano raggiungere la popolazione si lanciavano spesso in facili dichiarazioni che facilmente raccoglievano l'applauso e il consenso però affermando negando di fatto l'utilità dei piani di contenimento o di eradicazione spesso negando il fatto che la xylella potesse essere responsabile di questi dissecamenti e attribuendo invece senza nessuna prova la responsabilità dei dissecamenti all'uso indiscriminato al presunto uso indiscriminato di diserbanti di insetticidi sterilità del terreno e quant'altro a volte diciamo lo dico più a titolo di curiosità ci sono state anche manifestazioni anche diciamo la religiosità è stata coinvolta nella in questa questione della xylella fastidiosa per esempio sempre nel 2015 si tenne in Salento una via crucis per gli olivi in cui parteciparono i vescovi di cinque diocesi nel febbraio del 2015 che cosa per cercare di fronteggiare questa situazione il governo italiano dichiarò lo stato di emergenza fitosanitaria il primo ed unico caso nella storia della Repubblica italiana che cosa fece nominò un commissario straordinario un alto ufficiale un generale con ampi poteri che avrebbe in teoria dovuto avere ampi poteri e a cui era stato affidato tutto sommato un compito abbastanza semplice lui doveva soltanto eseguire un compito assegnato ossia eseguire del piano di contenimento previsto dalla normativa comunitaria e nazionale e comprendente anche alcune attività di eradicazione che non significava desertificazione del Salento apri di cielo questo scatenò ulteriormente questo movimento avverso all'applicazione di queste misure di contenimento forse i ragazzi siete un po' troppo giovani ma sicuramente i vostri genitori ricorderanno probabilmente le proteste di piazza e quindi anche in campagna che si manifestavano cercando di ostacolare quanto più possibile le attività di abbattimento delle piante infette ricordo per esempio che a Doria per poter abbattere sette piante un giorno dovrebbero essere schierate 200 militari delle forze dell'ordine e niente l'epidemia è stata ed è di Xilella in Puglia probabilmente almeno diciamo per noi fitopatologi con qualche nonostante qualche capello bianco ormai la consideriamo la malattia delle piante con il più grande impatto mediatico che si sia mai sperimentato in patologia vegetale e l'appassionato coinvolgimento di diverse figure estranee per competenza la patologia vegetale ma con grandi influenze sui media come dicevo prima cantanti ma anche giornalisti sociologi matematici astrofisici giuristi che più ne metta che si sono appassionati senza una base scientifica a questo argomento hanno portato a un distacco dall'approccio razionale facendo prevalere invece quello emotivo ed alimentando un'onda di rifiuta del piano di azioni di contenimento perché ovviamente al comune cittadino che non presentare una situazione come il come diciamo è molto facile convincere il fatto che ci siano dei cattivi che vogliono desertificare ed eradicare per oscuri interessi mentre invece gli olivi possono essere facilmente recuperati con qualche buona pratica con qualche concimazione eccetera eccetera e ovviamente questa situazione questa crescente ondata di avversione generò poi anche tutta una serie di ricorsi ai tribunali di 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 esposti alla magistratura e che che fece scattare anche poi delle fece aprire anche dei procedimenti penali ben noti in particolare dalla procura di lecce qui vediamo alcuni giornali dell'epoca che a ricordarci un po' questa situazione inchiesta a Xiella procura acquisisce le carte del CNR sulla sulla ricerca nell'autunno del 2015 quindi vennero depositati diversi ricorsi ai tribunali amministrativi ai tar cosiddetti contro il piano del commissario contro la decisione dell'Unione Europea contro i decreti di eradicazione e culmine di questa vicenda nel dicembre del 2015 a seguito di procedure amministrative e penali il programma di eradicazione venne sospeso e gli alberi messi sotto sequestro nel gennaio del 2016 il commissario rassegnò le dimissioni commissario straordinario del generale Silletti e anche il programma di monitoraggio venne temporaneamente sospeso e infine a febbraio 2016 venne dichiarata la fine dello stato di emergenza questo è un giornale del dicembre 2015 il giorno in cui si ebbe il culmine di questa situazione quanto ci fu il sequestro delle piante e l'avviso di garanzia a dieci indagati tra cui anche il sottoscritto gradualmente dopo un po' di tempo si cominciò invece il percorso di riallineamento di rientro nella razionalità perché nel giugno del 2016 l'alta corte di giustizia europea confermò pienamente la legalità delle misure delle decisioni europee riguardando la Xiella e respinse i ricorsi dei tar quindi come conseguenza nelle strade del 2016 riprese il programma di monitoraggio e nell'autunno dello stesso anno ripresero lentamente con difficoltà con qualche difficoltà ancora le azioni di contenimento e anche gli abbattimenti chirurgici degli alberi infetti dove previsto ci sono state poi tutta una serie di ulteriori passaggi che hanno anche un po' modificato ridimensionato l'ondata di diciamo il movimento negazionista e complottista hanno portato anche a un adeguamento della legge nazionale per facilitare l'applicazione dei pianti di contenimento e infine a maggio 2019 si ebbe anche l'archiviazione dell'inchiesta sull'axirella avviata nel 2015 nel frattempo però in questo frattempo che cosa era successo? che il batterio ha continuato a fare il suo sporco lavoro causando un grave impatto sociale ed economico per esempio immagini un studio di immagini satellitari ha stimato già a fine 2017 la presenza di almeno 6 milioni e mezzo di alberi di olivo gravemente danneggiati con almeno il 50% della chioma distrutta uno studio di economisti dell'Università di Wageningen olandese ha stimato come possibile rischio per i prossimi decenni un danno che potrebbe salire fino a 20 miliardi di euro nella viticoltura europea c'è stato un impatto disastroso per quanto riguarda il vivaismo e quella che era la presenza iniziale di Xiella limitata al Gallipolino in questi anni gradualmente i monitoraggi ci hanno dimostrato come si è avanzato fino purtroppo quest'anno negli ultimi mesi come sapete a cominciare ad interessare anche il territorio di Monopoli e attualmente siamo passati dai circa 8 mila ettari non chilometri quadrati qui c'è un errore interessati nel no attualmente diciamo 8 mila ettari non è un errore di di contaminazione dal 2013 attualmente quindi invece siamo a circa un territorio cento volte più grande nel giro di sette anni quindi 8 mila chilometri quadrati che si distendono su una lunghezza in linea di aria di circa 160 chilometri e quindi chi è andato in Salento come diceva prima il presidente avvicinandosi a Brindisi da qualora punto in poi fino a Santa Maria di Leuca ormai percorre oltre un centinaio di chilometri attraversando un territorio lunare praticamente una foresta pietrificata perché è successo tutto questo non è facile le ragioni diciamo in genere è stato già detto prima il negazionismo il complottismo le fake news sono abbastanza comuni in situazioni tipo queste ma in questo caso quella che l'ha reso più grave che ha funzionato da innesco da amplificatore che ha esteso ulteriormente questa problematica è a nostro parere stata la mancanza o nella migliore delle ipotesi inadeguatezza di comunicazione istituzionale da mettersi sul campo per fronteggiare la diffusione delle fake news perché per cui mentre se per il covid per esempio noi assistiamo comunque a una reazione a una risposta della comunicazione istituzionale che tenta che in parte riesce ad arginare quella che è il negazionismo del covid nel caso dell'Axiella questo è quasi del tutto mancato purtroppo lasciando invece isolate sul campo i poveri ricercatori lasciati soli a fronteggiare diciamo questa ondata negazionista chiudo prima di chiudere voglio lasciare alla vostra riflessione un paio di frasi che si trovano in un che ho trovato in un libro scritto due o tre anni fa da un parola di scienziato la conoscenza ridotta da opinione dove il capo ufficio stampa del CNR Marco Ferrazoli scrive per esempio che nel passato nel villaggio locale il medico il farmacista l'insegnante rappresentavano il mondo della conoscenza e componevano insieme con il prete il sindaco il comandante dei carabinieri una cerchia di autorità verso cui la semplice cittadinanza tendeva a mantenere un atteggiamento deferente fino alla sottomissione in ragione del gap socio-culturale che separava i due livelli gerarchici nel villaggio globale invece oggi questa verticalità è stata sostituita da una orizzontalità critica che talvolta sconfina nell'eccesso opposto in una sorta di equivalenza delle opinioni per la quale tutti ci sentiamo non solo legittimati ma anche titolati ad esprimere la la nostra opinione su qualunque argomento la conoscenza non è più considerata un valore intangibile è la parola dello studioso dello scienziato di chi detiene le competenze tende a sfumare in un mero parere uno dei tanti e con questo io avrei concluso e vi ringrazio per avermi seguito e a voi la parola grazie Donato efficacissimo il tuo intervento perché è andato dalla descrizione delle varie tappe dalla scoperta alla xylella poi tutto quanto riguarda poi questa ondata di complottismo negazionismo e di responsabilità anche delle istituzioni quindi adesso passiamo la parola a Mattia che farà che in pratica direzionerà le domande che arrivano dalla vasta platea soprattutto fatta di studenti ma non solo perché questo evento è aperto anche agli esterni bene Mattia Mattia a te la parola allora inizierei dottore con una domanda da uno studente la batte Giuseppe ci chiede buonasera la mia domanda è questa nel nostro piccolo di singoli cittadini cosa possiamo fare per prevenire la diffusione di questo fastidiosissimo batterio intanto vigilanza cioè quello di segnalare magari a qualche tecnico qualcuno che abbia un minimo di competenza eventuali casi sospetti perché quella persona poi valuterà se segnalare o meno questa situazione alle autorità competenti ossia al servizio fitosanitario all'osservatorio delle malattie delle piante per valutare se è il caso di fare o meno un campionamento ed un'analisi perché laddove la xylella ancora non è presente o è presente in forma proprio davvero rada in questo momento azioni di tempestive di intervento quindi di eliminazione di piante infette prima ancora che si diffonda possono essere molto utili invece l'agricoltore quindi il proprietario di terreni oltre a questo è chiamato anche da tempo un attimo scusa se ti interrompo devi devi sospendere la condivisione altrimenti non ti si vede vediamo un attimino solo ok adesso sì vero ok mi vedete sì va bene va bene ok quindi stavo dicendo mentre gli agricoltori devono anche i proprietari dei terreni devono anche cercare di applicare quelle che sono le misure che tra l'altro vengono richieste anche obbligatoriamente ossia quelle soprattutto dal controllo del vettore quindi farsi attrezzarsi per fare una lavorazione del terreno tra per esempio tra marzo e aprile andiamo avanti ci chiede Biasi Mattia le ritiene che nel periodo in cui l'Axilella comparve in Puglia essa sia stata fronteggiata nel miglior modo possibile in caso contrario sarebbe stato possibile debellarla o ridurre di molto la diffusione debellarla debellarla ritengo di no perché quando fu intercettata nell'ottobre del 2013 si appur in una parte di territorio molto più ridotta rispetto a quella attuale però ormai era già troppo diffusa per poter contare realisticamente nel successo di una campagna di eradicazione 8000 ettri sono tanti per un patogeno che non che non attacca una sola pianta ospite ma diverse specie e all'epoca non si conosceva quali fossero le altre specie oltre l'olivo e per giunta un batterio che si diffonde con dei vettori in grado anche di fare dei voli sia pur dei brevi voli mentre sicuramente un'applicazione tempestiva e drastica delle misure di contenimento che erano previste anche dalla legge avrebbe sicuramente rallentato di molto io sono sicuro che oggi non avremmo Xilella non avrebbe raggiunto monopoli ma sarebbe molto più più a sud di quando non si è presente adesso e questo certo non è non è la non è la non è l'abolizione l'eradicazione del problema però averla a 80 km piuttosto che dietro casa e quindi significa fa la differenza anche perché nel frattempo significa dare anche più tempo alla ricerca scientifica di cercare di trovare di sviluppare speriamo quanto prima possibile una soluzione definitiva a questo problema ok grazie con la prossima domanda invece cambiamo il target un pochino delle domande Romito Martina ci chiede nella sua biografia si menzionava il premio John Maddox che ha ricevuto come riconoscimento in che cosa consiste esattamente questo riconoscimento in realtà più che un premio ha avuto una menzione speciale perché il premio è andato a qualcuno ben più illustre di di me al professor Fauci che è colui che gestisce un po' l'emergenza covid negli Stati Uniti il quale è stato premiato perché il premio Maddox viene dato a ricercatori che che hanno avuto il coraggio che hanno il coraggio di mantenere la barra dritta di quella che è la verità scientifica in condizioni di in ambiente ostile in condizioni di ostilità per cui per esempio il professor Fauci è stata data proprio perché per aver operato in un periodo in cui diciamo le sue le sue tesi erano avversate con le argomentazioni populiste dell'allora presidente Trump diciamo nella la menzione nel caso mio diciamo per una candidatura proposta tra l'altro dall'Accademia dei Lincei che ha evidentemente ritenuto di dover scendere in campo a sostegno della comunità scientifica che sta portando avanti diciamo le attività di ricerca su Xirella hanno ritenuto bontà loro di volermi considerare rappresentante perché in realtà il nome è il mio ma come rappresentante di un gruppo ben più numeroso di colleghi con cui siamo impegnati da sette anni in questa in questa in questa battaglia diciamo così nonostante un ambiente come si diceva prima che ha attraversato momenti di ostilità anche abbastanza importanti significativi invece ora abbiamo la classe quarta scientifico che ci chiede quale sarebbe il metodo più efficace per distinguere le specie resistenti al batterio da quelle che non lo sono la prima cosa è come quindi il primo approccio quello più rapido è quello che si è fatto si deve andare ad osservare a fare diciamo tutta una serie di ispezioni di osservazione di raccogliere segnalazioni nel territorio nella zona dove il batterio è presente già da diversi anni e quindi diciamo le piante sono state sono sottoposte già da diversi anni alla pressione di inoculo del batterio stesso per cui sono stati gli agricoltori stessi per esempio a segnalare il carattere di resistenza in oliveti di leccino che si trovavano a fianco invece di oliveti di oliarolo o di cellina è apparente continuando a mantenersi in condizioni sicuramente molto miglior rispetto a quelle per tutto il resto invece si fanno tenete presente che il germoplasma dell'olivo è caratterizzato da un numero elevatissimo di varietà ce ne sono registrate nelle collezioni internazionali forse almeno 1500 diverse varietà di olivo di queste poche decine sono riscontrabili in Salente quindi su poche decine si può si può fare l'osservazione diretta si può trarre vantaggio dai risultati in condizioni naturali di anni e anni di pressione di inoculo per tutte le altre invece lo screening viene fatto in serra in serra in condizioni controllate e quello che si fa è che si si prendono dalle piantine sane e si si vengono infettate artificialmente partendo da colture pure del batterio proprio con un ago con una siringa si vanno ad iniettare all'interno di queste piantine sane e quindi si verifica per queste piantine intanto la capacità del batterio di moltiplicarsi all'interno di esse si va a monitorare in che concentrazione quindi se perché per esempio in leccino il leccino non è immune ha dei caratteri di resistenza in che cosa consistono nel fatto che si infetta ma quando si infetta evidentemente ci sono dei meccanismi che ostacolano la sua propagazione per cui a parità di condizione se in una pianta suscettibile la popolazione del batterio è pari a 100 nel leccino è pari a 2 a 3 cioè è molto più ridotta e quindi questo monitoraggio dei livelli di popolazione del batterio viene fatto all'interno poi delle cultivar che vengono infettate artificialmente e si confrontano tra di loro e oltre questo cosa ancora più importante è che poi a distanza di tempo si verifica l'eventuale comparsa dei sintomi l'intensità dei sintomi sulle piante che sono state infettate in questo modo oppure la capacità di mantenersi latenti di non sviluppare sintomi adesso professore le farò una domanda che ci viene direttamente da youtube quindi molto probabilmente esterna all'istituto questa domanda ci dice buonasera dottor Boscia lei è direttore del CNR IPSP che valide i risultati delle analisi affidate alla rete Selge componente del comitato tecnico scientifico per l'emergenza axidella recentemente istituito dalla giunta regionale pertanto è una delle più importanti autorità scientifiche istituzionali competenti in questa vicenda abbiamo appreso che recentemente lei si è parzialmente ricreduto sulle capacità di resistenza delle varietà leccino e favolosa autorizzate per riempianto in zona infetta abbiamo appreso dall'assessore Pentasuglia che la pratica dei sovrainnesti studiata e promossa dall'istituto che le dirige non ha ancora avuto validazione scientifica che nonostante oggi finanziata per 5 milioni di euro dal MIPAF dopo più di 7 anni e ingenti finanziamenti europei statali e regionali le risorse destinate alla rigenerazione olivicola delle zone interessate della diffusione di xylella fastidiosa ci chiediamo allora come mai le risorse destinate alla rigenerazione olivicola delle zone interessate della diffusione di xylella fastidiosa si basano su queste incertezze grazie ho dimenticato di nominare l'autore della domanda Vito Marchitelli e come ho già detto questa viene da youtube e allora il in realtà cioè quando il signor Marchitelli parla di diciamo del fatto che mi sarei ricreduto in realtà non è così cioè se uno va a leggere le carte i documenti eccetera noi sin da quando ci è stato ci sono stati chiesti delle autorità fitosanitare i dati in nostro possesso per quanto riguarda il leccino e favolosa noi abbiamo sempre detto che noi osservavamo e continuiamo ad osservare l'esistenza di caratteri di resistenza l'esistenza di caratteri di interessanti caratteri di resistenza di per sé non è immunità però c'è un'esistenza di caratteri di resistenza che può far sperare nella possibilità di utilizzare di poter convivere con queste cultivar e con altre che speriamo di intercettare quanto prima in condizioni di forte pressione di inoculo però noi abbiamo sempre detto sin dall'inizio che di tenere presente tuttavia che ci mancano osservazioni di lungo periodo si tratta di piante che comunque si infettano non sono immuni ma si infettano e che ci mancano le conoscenze di tutti i meccanismi genetici che regolano regolamentano questa resistenza che ci mancano dati di confronto della produttività tra un leccino sano e un leccino infetto perché il fatto che il leccino rimanga vitale di per sé non è garanzia ma avremmo bisogno di sapere anche se questo produce quanto il leccino sano o il 10% in meno o il 50% in meno perché a seconda di un caso o dell'altro o dell'altro questo dovrebbe fare molto la differenza per quanto riguarda un investimento l'autorizzazione o meno o l'adergo al divieto rimpianto non è non è non è una cosa di competenza nostra è frutto della valutazione che viene fatto in altre sedi e da altre figure per le quali noi non entriamo nel merito ribadisco noi abbiamo sempre detto che il fatto di aver trovato dei caratteri di resistenza in leccino è favolosa e per noi un incoraggiante l'abbiamo sempre considerato un incoraggiante punto di partenza e non certamente un punto di arrivo dopo di che questo per quanto riguarda la ricerca scientifica per quanto riguarda poi le scelte politiche questo non 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 ci attiene non non attiene a quelle che sono le nostre competenze e i nostri ruoli e il discorso simile vale anche per 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 quanto riguarda gli innesti perché il indubbiamente noi abbiamo osservato in campo delle situazioni che incoraggianti in questo senso ma una situazione incoraggiante certamente non è una non è una garanzia il fatto di aver osservato dei vecchi innesti con delle chiome che si mantenevano e si mantengono in condizioni abbastanza soddisfacenti rispetto alle piante sorelle vicine non non innestate è un'indicazione è un'osservazione empirica che 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 in mancanza di altre soluzioni in mancanza di altre soluzioni può può consentire di fare una valutazione per per prendere o meno certe misure dopodiché le misure le prendono le gli organi competenti che non sono che non è la comunità scientifica grazie mille adesso andiamo avanti con la prossima domanda di Garganese Claudio che chiede durante l'espianto di svariati livi per la questione TAP sia avuto un'ulteriore intensificazione delle ondate di negazionismo sulla questione Exidella ma cioè lì quella è un'altra questione che diciamo di per sé estranea la Exidella che però interessando anche la movimentazione lo spostamento temporaneo di piante di olivo ha fornito anche come dice l'assist per cercare di utilizzare anche gli argomenti di Exidella però se noi andiamo a vedere i protagonisti i molti dei protagonisti di questo di queste posizioni negazioniste sono sono in comune diciamo sia nella questione TAP che nella questione Exidella andiamo avanti Roberto Romani ci chiede quanti tentativi di fermare la diffusione dell'Axidella operati dalle istituzioni hanno avuto avrebbero potuto aiutare le stesse situazioni nelle stesse situazioni a combattere la diffusione del covid non è non è ovviamente esattamente la stessa cosa diciamo che perché come accennavo prima in entrambi i casi si tratta di di organismi nocivi di organismi patogeni che 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 si diffondono in condizioni naturali per le quali al momento in cui non si è più nella fase proprio iniziale del primissimo focolaio molto molto isolato il quello che si può fare è mettere a punto un piano di contenimento sappiamo i piani di contenimento del covid il piano di contenimento del covid così come il piano di contenimento dell'Axidella non ha nessuno può avere la pretesa che possa eradicare il patogico per il covid qual è l'obiettivo è quello di cercare di abbassare quando più possibile la curva epidemiologica l'obiettivo non è quello di far sparire il covid ma di mantenerlo in in contenuto in modo da evitare che si abbia il collasso delle strutture sanitarie e e ovviamente ogni piano di contenimento può essere attuato in maniera più più tempestiva o meno tempestiva più rigorosa o meno rigorosa a seconda del livello di rigorosità e di tempestività nell'attuazione il risultato può essere migliore o peggiore ovviamente ci sono tante le variabili in gioco per cui è difficile fare una cosa di questo tipo quello che invece ribadisco quello la 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 differenza che noi abbiamo osservato tra il covid e l'Axidella è che mentre per l'Axidella non si la comunicazione istituzionale non ha fatto praticamente nulla per fronteggiare l'ondata di negazionismo che si opponeva al piano di contenimento per quanto riguarda il covid invece noi quasi tutte le sere vediamo qualche rappresentante del governo sottosegretario eccetera partecipare ai vari talk show è ribadente e quindi cercando di arginare di fronteggiare quelle che sono invece le tesi negazioniste ci piacerebbe pensare che ciò sia accaduto grazie al fatto che la la faccenda Axidella possa aver insegnato qualcosa e quindi possa anche aver suggerito alle autorità sanitarie in questo caso invece di affrontare dal punto della comunicazione in maniera diversa questa problematica adesso invece passeremo a una domanda di carattere più generale chiede Garganese Claudio vi sono stati in passato nel nostro territorio delle epidemie su piante su così larga scala su così larga scala su così larga scala no non cioè questa soprattutto per l'impatto economico e sociale dell'Axidella credo che questa non abbia precedente non solo in Italia non solo in Puglia se diciamo se noi vogliamo trovare qualcosa di simile per esempio c'è stato il problema del virus della sciarca della violatura dell'edrupace che che fu intercettato in Salento guarda caso guarda caso a Ugento non a pochi chilometri dal primo focolare di Xilella nel 1988 se non ricordo male nel 1988 e in quel momento grazie anche alla a una azione tempestiva di 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 interventi al fatto di averlo identificato proprio nella fase iniziale della di di sviluppo del focolaio fu possibile mettere in atto un'immediata azione di programma di monitoraggio e di eradicazione che inizialmente riuscì ad eradicare col focolaio successivamente negli anni successivi consentì anche di intercettare altri focolaio che si erano manifestati in altre parti della Puglia e quindi diciamo da un certo punto di vista in questo è uno dei casi in cui la tempestività dell'azione ha fatto sì ha dimostrato che questo tipo di azioni sono sicuramente utili e possono avere successo successivamente poi invece nella BAT nella parte più settentrionale della della Puglia è emerso un altro focolaio causato da altri ceppi più aggressivi dello stesso dello stesso virus l'azione di contenimento è proseguita però con ugualmente con discreti risultati faccio un altro esempio il colpo di fuoco batterico ha portato l'abbattimento di oltre 10.000 piante di pero nel Salento senza che diciamo non se ne sia praticamente mai accorto nessuno però adesso il problema è stato superato va bene professore ora con un'ultima con un'altra domanda continua il dibattito che era iniziato prima col signor Vito Marchitelli visto che attendiamo altre domande da studenti continuiamo il dibattito prima avevo dato spazio ovviamente agli studenti adesso però chiede quindi di fatto oggi in zona indenne o zona cuscinetto se la pianta su cui facciamo i sovraennesti risulta positiva va comunque spiantata allora in zona indenne questo qui non c'entra più la ricerca qui la normativa però siccome sono discretamente informata sulla normativa penso di poter rispondere con cognizione di causa il la zona indenne ma anche la zona cuscinetto per definizione sono indenni dal batterio per cui è una zona in cui il batterio non è stato mai ritrovato anche in zona cuscinetto il momento in cui dovesse ritrovarsi dal batterio in zona cuscinetto in zona indenne dove per zona indenne la zona indenne è bitonto la zona indenne è milano faccio per dire quindi non è una questione di chilometri è zona dove il batterio non è presente è in vigore il regolamento comunitario la legislazione comunitaria il cosiddetto regolamento 1201 del 14 agosto dell'anno scorso il quale prevede che in qualsiasi parte del territorio laddove venga trovato un focolare di x-rella fastidiosa a prescindere dalla sottospecie si deve procedere all'immediata eradicazione e quindi all'immediato abbattimento di quella pianta e di tutte le piante sensibili a quella sottospecie presente nel raggio di 50 metri grazie adesso andiamo avanti con una domanda di Miriam Giannuzzi che chiede esiste una via efficace per poter vincere la xylella quale potrebbe essere se ancora non esiste allora a lungo termine ovviamente diciamo la risposta è quella di trovare una cura una cura efficace e radicale e definitiva cioè una medicina o un qualche cosa che è somministrata a una pianta sia in grado di risanarla in maniera definitiva dalla xylella per esempio ci piacerebbe fare il se si potesse sviluppare un vaccino contro la xylella questa sarebbe l'idea un vaccino non 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 si può sviluppare perché le piante non hanno un sistema immunitario e quindi non questa non non si può fare però diversi gruppi di ricerca stanno lavorando intensamente per cercare di trovare una soluzione però non sono in grado di fare delle previsioni di dire cosa quale e quando questo sarà possibile in alternativa a lungo termine anche vedendo ciò che succede altrove ciò che è successo con altre patologie malattie o parassiti importanti comunque in prospettiva c'è quello dello sviluppo di germoplasma altamente resistente se non immune faccio un esempio la filossere della vite che aveva praticamente distrutto la tutta la viticoltura europea oltre un secolo un secolo fa come è stata superata in maniera definitiva questo problema siccome la parte della vite che era sensibile a questo parassita era l'apparato radicale più o meno casualmente comunque a seguito di ricerca eccetera è stato trovato del germoplasma di vite con l'apparato radicale altamente resistente se non immune agli attacchi dalla filossere della vite ecco perché adesso tutti i vigneti sono fatti innestando supporti innesti americane su piedi americani resistenti alla filossera ma qual è uno dei casi in cui il problema è stato superato con l'utilizzo di germoplasma resistente grazie mille professore io qua non avrei più nessuna domanda né da youtube né dai gruppi meet benissimo allora chiudiamo però vorrei fare solo una domanda finale dopo aver detto ma beh della xylella hai fatto comunque riferimento ai saggi molecolari che voi effettuate in istituto ora io volevo porre un accenno proprio sul fatto che vicino comunque nella nostra regione ci siano dei laboratori altamente tecnologicamente e biochimicamente avanzati nel senso che si fanno comunque dei saggi molecolari che magari nell'immaginario collettivo non pensiamo che si possano fare e che anzi nel per quanto riguarda i vegetali diciamo che questi gruppi il vostro gruppo di ricerca è stato all'avanguardia cioè credo che siano più di 30 anni che operate nel settore della biologia molecolare ecco volevo una conferma magari divulgare questa notizia sì no effettivamente le stesse analisi per il covid si fanno con sostanzialmente con la stessa metodologia si fa della realtà in PCR ecc ci sono però delle differenze o meglio la metodologia quindi lo sviluppo della reazione e quindi l'analisi in sé è simile e ci sono tanti laboratori che possono fare quello la peculiarità delle analisi fatte per Xylella sta non tanto nell'esecuzione dell'analisi quanto nella preparazione del campione quindi un punto critico del tipo di analisi diagnostica sta proprio nella preparazione del campione nella estrazione dei tessuti del vegetale che è stato campionato però è chiaro che le analisi molecolari sono analisi fatte con l'utilizzo di reagenti di utilizzo universale con l'applicazione di protocolli più o meno anch'essi universali che quindi anche la caratterizzazione dei genomi per voi è roba di ogni giorno insomma questo anche per fare comparazioni e tutto quanto questo volevo sottolineare cioè non è che dobbiamo andare nei centri necessariamente posti non so dove non so in quale angolo del mondo no? questo certamente tra l'altro se posso dire ci sono dei colleghi c'è per esempio la collega Maria Saponari che fa parte del gruppo di lavoro dell'EPPO dell'Organizzazione Europea della Protezione delle Piante gruppo di lavoro che è incaricato di poter aggiornare e sviluppare quelli che sono i protocolli ufficiali di diagnosi in questo caso di Xella fastidiosa bene credo che abbiamo concluso siamo naturalmente grati a Donato Boscia per la sua disponibilità perché in pratica ha dedicato tempo alle nostre curiosità e spero che naturalmente tutta la comunità scolastica abbia tratto degli insegnamenti da tutto ciò quindi ti saluto Donato ti auguro un buon lavoro soprattutto sereno a te e a tutto il gruppo a cui mando anche i saluti e passo la parola al dirigente e professor Boscia grazie noi la ringraziamo perché diciamo un po' nella curiosità un po' nell'attenzione ma lo diciamo anche nella speranza che si possa davvero trovare come per il covid anche per la xylella una soluzione che ci auguriamo diciamo definitiva però in realtà sappiamo che nel sviluppo dell'uomo nello sviluppo della natura tutto questo non ha una sua definitività sarebbe troppo bello però ci dispiace che il paesaggio pugliese rischi di trovare purtroppo con questa chiamiamo la malattia almeno noi che non siamo esperti almeno personalmente qualcosa che cambi completamente non soltanto il paesaggio ma anche la storia io aggiungo soltanto questo non sono un esperto di alberi di olivo né di piante né di cultivar o di altro però mi hanno insegnato che quando si vede qualcosa su un albero di olivo indica un innesto indica una potatura indica un taglio lo dico anche perché il mio suocero era un esperto potatore nel suo mondo antico e soprattutto nel rispetto che aveva verso alcune potature rispetto ad altre e soprattutto verso la cura di questi monumenti del tempo che sono i monumenti della nostra vita e quando ho utilizzato il termine cultura ora posso anche utilizzare della nostra civiltà noi siamo parte di questa terra e penso che il mio suocero rispettava questo albero ora è chiaro noi cerchiamo di fare tutto questo nel rispetto con i nostri strumenti con i nostri mezzi con le nostre conoscenze con le nostre possibilità penso che anche nel passato hanno provato perché forse quei segni su quei tronchi su quelle cortecce rappresentano una sorta di tentativo di aprire delle ferite e nello stesso tempo di chiuderle speriamo che possa esserci anche questo perché questi alberi sono l'immagine stessa che noi abbiamo della Puglia e di un paesaggio che parte pieno dei nostri occhi della nostra memoria nel passato che abbiamo e in quello che speriamo nelle vostre ricerche nelle vostre possibilità possa essere trasferito a tutte le generazioni future per essere pugliesi nel senso pieno della parola ringraziamo anche Mattia e Giulia per aver fatto da tramite e io ringrazio voi e chi ha avuto la pazienza ad ascoltarmi va bene bene buonasera a tutti grazie bene salve ciao